Parla tifoso napoletano. Oggi vi riportiamo gli aggiornamenti rilasciati dal rinomato Sky Sport. Prima di proseguire, voglio invitarti ad iscriverti al canale per rimanere informato sulle prossime cruciali novità legate al Napoli. Jesper Lindstrom, il talentuoso giocatore danese, è già sbarcato in terra italiana per sottoporsi alle visite mediche e formalizzare il contratto che lo leggerà al Napoli fino al 2028. Distinguendosi nella sua ultima stagione al Francoforte, ha impressionato segnando nove gol e fornendo quattro assist in 38 presenze. Nel corso della trasmissione Sky Speciale Calciomercato, l'autorevole giornalista Massimo Ugolini ha condiviso le sue riflessioni, questa trattativa è stata sorprendentemente rapida. Il Napoli monitorava il giocatore da molto tempo ed era convinto delle notevoli capacità dell'attaccante. Abilmente sulla destra e alla sinistra, ha dimostrato anche la capacità di giocare dietro il centro avanti. Questa versatilità tattica si presenta come una valida alternativa a Rudy Garcia. Secondo alcune indiscrezioni, Lindstrom potrebbe succedere a Irving Lozzano, che sta per tornare al PSV. Allora tifoso, cosa ne pensi di questo nuovo acquisto fatto da Aurelio De Laurentiis per il Napoli? Condividi i tuoi commenti e non dimenticare di mettere mi piace a questo video per supportare il nostro canale. Restate sintonizzati perché torneremo presto con altre notizie interessanti.